114 corse al giorno, un milione e mezzo di viaggiatori l'anno. Dopo tante vicissitudini amministrative e 13 anni di lavoro, inaugurata l'autostazione dei bus a Grotta Minarda. Al taio del nastro il governatore De Luca, il delegato regionale ai trasporti Cascone e l'amministratore unico Ayr a Concia. L'operazione è interessante perché qui vicino vi sarà una stazione dell'alta velocità Irpinia e avremo quindi un nodo di interscambio molto significativo, abbiamo parcheggi interrati per i privati e come vedete alle mie spalle abbiamo una dotazione di pullman prodotti fra l'altro in Irpinia che mi pare siano una bella risposta ad un'altra azienda che era entrata in crisi. Mi pare che stiamo avvicinandoci all'obiettivo di rompere l'isolamento delle aree interne. Ora l'auspicio di a Concia e inaugurare presto anche l'autostazione del capoluogo. Proveremo a strappare la promessa di venire entro, prima dell'estate, ad inaugurare anche l'autostazione di Avellino. Con Cascone il discorso si è spostato invece sulle polemiche degli ultimi giorni riguardanti taglia la mobilità ferroviaria in Irpinia. Solo tanta confusione, dice, elettrificazione e bretella di Codola si faranno. L'elettrificazione è in corso, sta subendo dei ritardi, ha subito dei ritardi perché entro la fine di quest'anno completerà questo tratto fino ad Avellino. Per quanto riguarda il futuro la campagna ha candidato la velocizzazione, l'utilizzo, l'ammodernamento del collegamento di Codola che potrà riportare sulla linea Monte del Vesuvio, così come ha candidato l'eliminazione del passaggio a livello di Atripalda.